Partita cominciata a rilento, con un secondo tempo in ripresa, cos'è mancato per vincere? È mancata un po' la mentalità, la mentalità di voler chiudere la partita, di far risultato, di lottare su ogni pallone, che l'abbiamo fatto, perché poi abbiamo iniziato male in quarto d'ora, poi abbiamo iniziato a giocare, però è così, è un momento così, è un momento che purtroppo ci sta andando storto, facciamo gli errori, i primi errori li paghiamo e quindi bisogna imboccarsi le maniche e andare avanti.